Buongiorno a tutti e benvenuti carissimi telespettatori di Fano TV a questo consueto appuntamento del mattino in diretta delle 7.30 con i giornali. Occhio ai giornali che tra un istante si apriranno sui tre quotidiani locali. Allora vediamo adesso invece il tempo e poi il me e poi vediamo il santo e poi il meteo. Santa Chiara di Montefalco oggi la chiesa cattolica ricorda il sole sotto alle 6.12 tramonterà alle 20.12. Allora il tempo questa è la fotografia della nostra webcam ancora qualche nuvola vedete sul mare a destra invece cielo sereno altrove. nel termometro segna 19 gradi alle 7.30 comunque temperature che sono destinate a salire come vedete anche da quello che scrive la protezione civile delle marche per la giornata di oggi quando avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente nelle ore pomeridiane le precipitazioni saranno assenti le temperature in aumento i venti moderati sud occidentali per la giornata di domani martedì 18 agosto avremo cielo sereno o parzialmente nuvoloso per il transito di lievi velature. Avremo degli addensamenti più consistenti nel pomeriggio in particolare nelle zone interne. Non si escludono brevi ed isolati fenomeni nella seconda parte della giornata con temperature stazionarie o in lieve aumento. Ci saranno anche i venti saranno deboli prevalentemente dai quadranti meridionali. Il mare sarà poco mosso. Possibili condizioni di instabilità sulle marche nelle giornate centrali della settimana quindi tra mercoledì e giovedì. Vedremo. Allora la storia raccontata sul resto del carino di questo uomo di cartoceto un pensionato di 77 anni Franco Piersanti lo vedete tra un istante eccolo qua nella fotografia e nel riquadro invece il cane il cane che tra l'altro è della moglie si chiama Gori questo cane e stava per uccidermi dice adesso questo 77enne sono stato salvato da mia moglie parla il pensionato assalito dal pastore Maremmano di sei anni 20 punti per ogni guancia per ogni guancia dilagnata dai morsi. La donna è riuscita ad allontanarlo però adesso il cane che veniva trattato come un figlio dice la donna rischia di essere di dover essere soppresso. Addio a Valentino Fiorini. Fiorini è il titolare dell'omonima azienda vinicola grande produttore di vini. Dal suo lavoro è nato un grande vino. Era ultra novantenne il funerale alle 10 di questa mattina sarà seppellito a Mondavio. Dunque ci sarà questo rito, l'esequio si terranno questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Barchi dopo il quale seguirà la tumulazione nel cimitero di Mondavio. Il lancio di Maria Bianca Peonia amputata ma non del coraggio. La 17enne di Gradara si è tuffata con il paracadute. Nonostante l'incidente non si è mai arresa. Niente dice lei è impossibile. Cambiamo giornale. Andiamo adesso sul Corriere Adriatico. La pagina di Pesaro. Bivacchi e Falò. Raffiche a multa. Blitz all'alba della forestale nella spiaggia di Focara. Almeno 10 mila euro di sanzioni. Un'imbarcazione intanto è rimasta incagliata sotto la falese del parco. Paura per una coppia salvata dagli uomini della Capitaneria. Ancora dal quotidiano delle Marche. Da Sant'Angelo Invado, Ismaele, i dubbi che restano. Falle nella ricostruzione del delitto. Accusa e difesa. Cosa non torna del racconto sin qui conosciuto di quello che è stato detto a proposito di questo terribile omicidio che è quello di Ismaele Lulli di Sant'Angelo Invado. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico si occupa, è tutta cronaca, con questi ragazzini rapinati e malmenati. Un minorenne insegue il ladro del suo cellulare. Il balordo e il complice picchiano lui e anche l'amico. Pugni senza motivo invece a un uomo, un ragazzo fanese di vent'anni, mentre era in compagnia di tre amici, era stato avvicinato da queste persone e poi senza motivi apparenti, dopo averlo ingiuriato, gli ha sferrato un pugno al volto. Qui intanto nella fotografia il Corriere pubblica la foto del comandante Barrasso. Poi, sempre per quanto riguarda la cronaca, minaccia i vigili, poi spintone i carabinieri. È stato arrestato un trentasettenne originario del paese di Mondavio, già noto alle forze dell'ordine. Poi sotto, invece, paura. Nella notte, per un'abitazione che è andata a fuoco, cortocircuito di una lavastoviglie, incendiata una cucina e annerite le pareti di casa. L'allarme è giunto ai vigili del fuoco intorno all'1.50 dell'altra notte. Siamo in via degli Oleandri, una traversa di via del fiume a Fano. Perde il controllo dell'auto e cappotta, incidente all'albe in autostrada. Cinque feriti, nessuno è grave. È ancora in coma, invece, il marmista, vittima dello schianto di venerdì in via del Dominichino a Fano. Andiamo sull'altra pagina del Corriere, questa volta da Senigallia. Tocca un giocattolo e prende la scossa. Una bambina finisce all'ospedale. È accaduto sabato sera al mercatino di Ponte Rosso tra il lungomare Alighieri e via Dalmazza. Una bambina di dieci anni che stava passeggiando insieme ai genitori tra le bancarelle, stava toccando dei giocattoli sopra appunto una bancarella. Vicino c'erano dei cavi scoperti della corrente elettrica che sono ovviamente utilizzati per illuminare gli stand. Poi a un certo punto la bambina deve averli sfierati. Insomma, alcuni oggetti erano ancora bagnati a causa dell'acquazione e questa bambina ha preso appunto la scossa. Autoimpazzita rischia di falciare un ciclista alla guida, sempre da Senigallia, alla guida un giovane ubriaco preso dalla polizia. Emergenza alcol, soccorsi, cinque ragazzini. C'è un sacco di gente, un sacco di ragazzini che stanno andando in coma etilico. C'è questa notizia anche su un'altra pagina, credo che dalla cronaca di Macerata. Torniamo sui nostri quotidiani invece il messaggero, la pagina di Pesaro, controlli ai bagnini? Noi chiediamo solo il rispetto delle regole. Varotti della Confcommercio, la prima reazione alle accuse della Confartigianato era di querela. Noi vogliamo che tutti seguano le norme. Confcommercio convoca domani un'assemblea dei ristoratori, no all'arroganza di qualche assessore. Ferragosto con la tromba d'aria, una festa rovinata, ma solo a metà. Atalacchio, infatti, un capannone scoperchiato, mentre un'imbarcazione rimasta incagliata sotto la falesia. E chiudiamo con l'ultima pagina, sempre quello che riguarda il Pesaro e provincia del Messaggero. Ragazzi aggrediti e rapinati in spiaggia. Ferragosto, sedicenne fanese, aspetta l'alba alla focia del Metauro con gli amici, ma due turisti ventenni della provincia di Bergamo, gli portano via il cellulare. Inseguiti, i maggiorenni hanno sferrato calce e pugni, poi però sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri. In cella un bergamasco e un marocchino che erano in vacanza in un campeggio. L'ite di Ferragosto, sotto l'ombrellone, un papà e una zia finiscono all'ospedale. Una notizia che arriva da auditore, siamo sempre in provincia di Pesaro, una classica lite da Ferragosto, però questa volta accaduta sulla spiaggia di Riccione. Danni per il maltempo, via Ruggeri beffata, i residenti scavalcati da altre emergenze successive. Dunque in via Ruggeri i rimborsi dei danni provocati dal maltempo hanno saltato un turno. Che cosa ne è stato, dicono delle nostre richieste riguardanti il fortunale del febbraio scorso e poi la polemica. Volontari per il verde, scontro sugli incentivi. Siamo sempre a Fano. L'opposizione chiede vantaggi fiscali per chi si impegna nei quartieri. La maggioranza dice tutto già previsto. Ed è tutto anche per la rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Ci vediamo stasera alle 20 e 30. Arrivederci. Grazie.